Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e sono pronto a presentarvi una novità molto importante, è il OnePlus Nord N10 5G. Siamo tornati ad usare l'italiano, lo spiegavo ieri, che insomma abbiamo fatto un piccolo esperimento per vedere quale appeal ci potesse essere per la lingua inglese. Adesso business as usual, per usare l'italiano, nella nostra lingua abituale per presentare questa novità importante di OnePlus. Perché è importante? Perché intanto espande la linea Nord, che è la linea con un rapporto qualità-prezzo davvero elevata, perché porta il 5G ad un prezzo ancora più basso, perché a questo prezzo abbastanza contenuto, porta un display con un refresh rate da 90 Hz, ma se non vi bastasse anche questo c'è anche il suono stereo che è un'aggiunta ulteriore. Allora, cominciamo proprio dall'inizio. OnePlus ha una forma diciamo più tradizionale, forse anche un pelino più anonima, con questo blocchettino della fotocamera che è classico di questo periodo. Abbiamo volume rocker e il cassettino delle SIM da questo lato, cassettino della SIM che contiene due nano SIM, oppure una nano SIM e una micro SD che di solito non esiste con i prodotti di OnePlus, fino a 512 GHz. Ma poi ci torniamo. Pulsante di accensione. Faccio notare che in questo telefono non c'è lo slider abituale che accende e spegne le suonerie di OnePlus. Sulla parte inferiore un ritorno gradito, quello del connettore da 3,5 mm, c'è un altoparlante, ma come detto il suono è stereo perché viene usata la capsula auricolare anche per la riproduzione del suono. E poi per quanto riguarda il display 6,49 pollici di diagonale, è un display LCD full HD+, con una ratio 29 e con tutto sommato una leggibilità direi buona. La caratteristica principale di questo schermo è il fatto che abbia una frequenza di aggiornamento, refresh rate da 90 Hz. Questo vuol dire che le informazioni che appaiono sul display si aggiornano più di frequente e quindi quando ad esempio si usa lo scorrimento, ci si muove nei giochi, si fanno attività di questo genere, c'è una fluidità maggiore garantita per chi sta guardando le immagini. Poi magari qualcuno di voi potrebbe non accoggersene, però questa è una caratteristica soprattutto quando si gioca che è molto interessante. Quindi display che per la categoria di appartenenza è sicuramente importante. Dotazione hardware, altro tema fondamentale. Qui dentro c'è il processore Snapdragon 690 che è discretamente veloce ma è soprattutto compatibile con il 5G. È abbinato a 6 GB di rame e a 128 GB di memoria interna. È discretamente veloce questo telefono, però bisogna segnalare che la memoria interna UFS 2.1 questo vuol dire che ha una discreta velocità di lettura e scrittura ma non la migliore disponibile e questo incide leggermente anche nei consumi, ma dei consumi parliamo tra poco. Dunque, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, espansione attraverso microSD fino a 512 GB, con all'interno un processore che è compatibile con le reti 5G, c'è il Wi-Fi 5, purtroppo non c'è il Wi-Fi 6 che secondo me oggi dovrebbe essere disponibile per tutti. E poi per quanto riguarda l'hardware c'è il sensore delle impronte digitali nella parte posteriore del telefono, tutto sommato la più comoda in assoluto da utilizzare. Non è molto cool, non è molto fashion, ma è molto facile da sfruttare. Per arrivare al settore fotocamera, bisogna dire che c'è una configurazione con quattro sensori sulla parte posteriore, c'è una fotocamera invece nella parte anteriore Gorbughetto, il sensore principale per la prima volta è da 64 megapixel, stabilizzazione elettronica grazie al giroscopio, poi c'è un sensore grandangolare di una buona sensibilità e poi due sensori da 2 megapixel che servono per la profondità e per gli scatti monocromatici. Questo non vuol dire che quando scattate in bianco e nero viene usato questo sensore, perché se voi mettete un dito sopra il sensore monocromatico le foto in bianco e nero vengono comunque. Questo vuol dire che questo sensore cattura delle informazioni che vengono usate per elaborare al meglio la fotografia. C'è una modalità notturna, è una modalità che si può utilizzare anche con il grandangolo, con un risultato che direi che è discreto per la categoria di appartenenza. Fotocamera frontale da 8 megapixel con la stabilizzazione elettronica, che non capita tutti i giorni. I video invece in 4K con il sensore principale, anche in questo caso con una buona qualità e come detto c'è la stabilizzazione che è elettronica. Quindi un telefono che ha 349 euro, questo è il prezzo di lancio ufficiale, che ci dà display con 90 Hz, il suono con la diffusione stereo, il jack delle cuffie da 3,5 mm, la compatibilità con il 5G e arrivo in fondo con la batteria. 4.300 mAh di batteria con il caricatore in modalità Warp 30. Questo vuol dire che viene utilizzato il caricatore che era nei top di gamma precedenti di OnePlus, stavo dicendo Huawei, di OnePlus, e quindi con una ricarica comunque veloce, perché insomma nel giro di 30 minuti si arriva più o meno al 50% della ricarica. Vero che oggi ci sono dei telefoni che 35 minuti fanno il 100%, ma costano anche più del doppio. Quindi nel complesso un prodotto che forse non vi farà urlare al miracolo per il suo aspetto estetico, che è abbastanza ordinario, ma che ha tutte le cosine in regola per competere con i prodotti oggi sul mercato allo stesso prezzo. Io ho trovato la fotocamera carina, batteria invece veramente molto resistente, quindi diciamo che per il prezzo a cui viene proposto questo è secondo me un dispositivo molto interessante. Se avete delle domande come al solito fatemele, io spero di poter rispondere a tutti i quesiti che potreste avere su questo telefono. Se non vi siete ancora iscritti al canale vi chiedo di farlo e di magari parlare anche con vostra zia di quanto è forte il tuo canale. Vabbè, ci vediamo su Mr. Gadget appena possibile. Ciao a tutti!